Da oggi, lunedì 7 novembre, temporaneamente chiusa la rampa a partenze dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa per consentire l'esecuzione di alcuni interventi necessari, nello specifico il rifacimento dell'asfalto. A renderlo noto la SAC, in particolare la chiusura sarà in atto dalle 7 del mattino di oggi fino alle ore 19 di venerdì 11 novembre, ma non è finita qui. La strada sarà riaperta nel fine settimana, 12 e 13 novembre, ma verrà nuovamente chiusa al traffico dalle 7 di lunedì 14 fino alle 19 di mercoledì 16 novembre per permettere in questo caso il rifacimento della segnaletica. La circolazione veicolare di auto, navette e bus sarà possibile sulla viabilità normale.